Siracusa festa dei nonni, giovedì 1 ottobre torna all'orchidea dell'Unicef. Anche quest'anno la sezione Unicef di Siracusa celebra la giornata dei nonni, così come viene festeggiata in dati diverse in varie parti del mondo, e ciò per riconoscere il valore della loro figura educativa, sociale e ausiliaria nei confronti dei nipoti e delle loro famiglie. La manifestazione si svolgerà il 1 ottobre dalle 17 alle 19 negli spazi del giardino di Villa Raiman con la partecipazione dei Vigili del Fuoco. La scelta dell'orchidea è relativa al simbolo di amore profondo e innocente, che i nonni provano ed esprimono con le loro positive azioni ai nipoti. Ogni archidea Unicef equivale a 60 bustine di alimenti terapeutici destinate ai bambini malnutriti. Ricordiamo che quanti volessero partecipare possono prenotarsi presso la sede Unicef di Via Piave, aperta la mattina e il pomeriggio. Si ricorda tutti i partecipanti che hanno l'obbligo di indossare la mascherina per un salutare reciproco incontro fra bambini, giovani, adulti e nonni. Grazie. 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 Grazie.